Riconoscere le piattaforme di trading truffaldine, una guida dettagliata. Il mondo del trading online offre opportunità finanziarie significative, ma purtroppo è anche un terreno fertile per truffe e frodi. Riconoscere le piattaforme di trading truffaldine è fondamentale per proteggere i vostri fondi e la vostra sicurezza finanziaria. In questa guida dettagliata, esploreremo i passaggi chiave per identificare le piattaforme di trading disoneste. 1. Verificare la regolamentazione. Una delle prime cose da fare è verificare se la piattaforma è regolamentata dalle autorità finanziarie competenti. Questo dovrebbe essere il vostro punto di partenza. Le piattaforme regolamentate sono tenute a rispettare normative rigide per proteggere gli investitori. Controllate sempre il loro sito web per le licenze e le autorizzazioni. 2. Ricerca e recensioni. Fate una ricerca online approfondita sulla piattaforma. Leggete le recensioni degli utenti su siti web di fiducia. State attenti alle recensioni estremamente positive o negative, poiché potrebbero essere false. Le piattaforme legittime sono trasparenti riguardo ai loro servizi e commissioni. Verificate se i costi sono chiaramente indicati e se ci sono costi nascosti. Fate attenzione a qualsiasi richiesta di pagamento in anticipo o commissioni eccessive. 4. Assistenza clienti. Contattate il servizio clienti e fate domande specifiche sulla piattaforma. Un servizio clienti legittimo risponderà alle vostre domande in modo professionale e tempestivo. Le piattaforme trufaldine possono evitare di rispondere o rispondere in modo evasivo. 5. Promesse irrealistiche. State attenti alle promesse di guadagni elevati in tempi brevi. Se sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Il trading comporta rischi e rendimenti variabili, non è un mezzo per diventare ricchi rapidamente. 6. Mancanza di documentazione legale. Verificate se la piattaforma fornisce contratti, termini e condizioni chiari e politiche di rimborso. La mancanza di documentazione legale è un campanello d'allarme. 7. Offerte non richieste. Fate attenzione alle offerte non richieste, specialmente se vengono da persone che cercano di convincervi ad investire. Le piattaforme legittime non vi costringono a investire. 8. Domande sui vostri obiettivi. Una piattaforma seria farà domande sul vostro livello di esperienza e obiettivi finanziari. Se sembrano disinteressati o non si preoccupano dei vostri obiettivi, potrebbe essere un segno di problema. 9. Verifica dell'indirizzo web. Assicuratevi che il sito web abbia un protocollo di sicurezza HTTPS e verificate l'URL per evitare cloni o falsi. 10. Richieste di pagamenti inusuali. Fate attenzione alle richieste di pagamento in criptovalute o metodi di pagamento non convenzionali. Questi possono essere difficili da rintracciare. Conclusione. La vigilanza è fondamentale quando ci si avvicina al trading online. Non siate mai troppo affrettati nel prendere decisioni finanziarie importanti e consultate un consulente finanziario o esperto se siete incerti. Ricordate che il vecchio detto è se qualcosa sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è e si applica spesso nel mondo del trading. Investite solo con piattaforme di trading regolamentate e affidabili per proteggere i vostri fondi e il vostro benessere finanziario.